Loro arrivano da territori in cui c'è la guerra, molto spesso sono scappati da situazioni molto difficili e in alcuni casi hanno visto anche la morte. Alle spalle si lasciano situazioni difficili, vengono dal Nord Africa, principalmente dall'Eritrea e dalla Palestina. I profughi ospitati nella struttura Battaglia Terme sono 10, 8 donne e 2 bambini. Nella struttura si sono fermate già un centinaio di persone che sono passate per di qui per ristorarsi e continuare il loro viaggio alla ricerca di parenti o amici lungo l'Italia e nel Nord Europa. Ma tanti, secondo il vicepresidente della cooperativa Ecofficina, desidererebbero solo tornare nelle proprie case. Sono arrivati a Padova dopo un viaggio lungo e difficile che dura giorni o settimane. Sono sbarcati nel Sud Italia, dopodiché il Ministero e la Prefettura si sono coordinati e li hanno fatti arrivare qua su, in questo centro, come in altri centri del Nord Italia. Questa è la loro casa per qualche tempo. Durante la giornata seguono semplici lezioni per imparare qualche parola di italiano, capiscono come fare la raccolta differenziata e gli viene spiegato come si fa a cucinare qui, perché le materie prime per mangiare sono completamente differenti da quelle del loro paese. Degli ultimi arrivi sono andati via quasi tutti e attualmente non è ancora stato annunciato l'arrivo di nuovi profughi. Sono già stati controllati e vaccinati. Tutte le persone che arrivano qui nel giro di poche ore vengono sottoposte a uno screening di controllo per vedere lo stato di salute con l'uso locale. Adesso con le nuove disposizioni della regione vengono tutti vaccinati. Questo a noi fa molto piacere perché aggiungi tutela, aggiungi sicurezza sia a noi che operiamo sia a chi è intorno a noi che operiamo sia a chi è intorno